Il contrasto, noi abbiamo dei nemici comuni, i nemici comuni non sono le persone che credono in un'altra religione, sapetevi sono gli uomini e le donne banali, vuoti che non credono a niente. Se si afferma l'idea che si può vivere la vita senza principi, muore la sua religione e muore anche la mia.